sto parlando dei fratelli castro la grande rivoluzione cubana e pensate un po c'è lo zampino del wrestling in questa rivoluzione e adesso vi racconto la storia servendomi di questo sito che vedete a schermo allora tutti sanno che il professional wrestling ha regalato tanti momenti storici ma ha contribuito anche alla storia del mondo in molti modi differenti anche quando non ne siamo venuti a conoscenza addirittura a volte il wrestling ha avuto a che fare i movimenti che hanno riguardato i diritti civili oppure cambiamenti politici epocali e parlando di rivoluzioni che ci crediate o no il wrestling ha avuto anche un forte peso nella rivoluzione cubana degli anni 50 quando leggiamo i libri sulla storia della rivoluzione cubana che è durata dal 1953 sino al 1959 sicuramente ci imbattiamo nelle storie riguardanti fidel castro fulgenzio batista e cegevara tutti loro sono stati dei key players in quella che sarebbe stata poi conosciuta appunto come rivoluzione cubana ma non tutti conoscono il nome di un uomo chiamato arsassio vanegas arsassio vanegas non era un soldato non era un politico e non ha avuto a che fare in prima persona con le sanguinose battaglie che hanno infuriato per tutta cuba arsassio vanegas lo vedete qua in foto era il nipote di un famoso publisher quindi di un famoso editore messicano chiamato antonio ma non solo arsassio era anche un luciador che combatteva con il nome di kid vanegas ha lottato in messico negli anni 40 sino agli anni 50 e sarà proprio arsassio spero di pronunciarlo nella maniera corretta a giocare un ruolo di basso profilo ma molto importante nella rivoluzione cubana nel 1955 i rivoluzionari fidel e raul castro fratelli quindi ecco che torna il tema dei fratelli che abbiamo toccato anche nella storia del tech team di fratelli più perdente di sempre nel 1955 fidel e raul castro vengono esiliati da una prigione cubana e portati in messico in messico fidel e raul incontrano vanegas e diventano suoi amici vanegas li porta a casa sua e insegna loro l'arte del bullfighting quindi combattere con i tori e del wrestling da amico diventa simpatizzante della loro causa e inizia ad addestrare militarmente i castro e la piccola armata al loro seguito insegnando loro l'autodifesa il combattimento a mani nude e le mosse del wrestling vanegas prende i due cubani cegevara e altri e li porta a camminare nelle montagne del messico per irrobustirli fisicamente perché la rivoluzione ha bisogno di soldati disposti alla fatica e competenti nella lotta quindi abbiamo un wrestler uno che lotta in maniera combinata che insegna la lotta vera a dei rivoluzionari e in particolar modo a due fratelli fidel e raul castro qui abbiamo anche una sua foto con fidel castro il nonno di arsasio abbiamo detto che era un editore quindi arsasio lo comincia a pubblicare molta della letteratura su cegevara e sulla rivoluzione cubana che ancora oggi è arrivata ai nostri giorni che ancora oggi possiamo leggere e stampano ovviamente parecchie cose destinate alla propaganda in terra cubana e quando il castro tornano a cuba e sovvertono il governo nel 1959 ovviamente il nonno di arsasio aiuta il più possibile a diffondere la notizia quando vanegas la riceve la leggenda metropolitana dice che è in una palestra in messico e si mette a danzare e a festeggiare in strada la sua prima affermazione pare che sia stata sono contento e soddisfatto e soddisfatto nell'aver saputo del trionfo di castro ma allo stesso tempo sono molto triste nell'aver appreso che molti dei soldati che ho allenato sono morti in combattimento arsasio vanegas rimane un fedele supporter di castro per tutto il resto della sua vita non solo conserva di castro una maglietta sudata che il leader cubano ha indossato durante una loro sessione di allenamento e anche un backpack quindi uno zaino di proprietà di cegevara utilizzato per uno dei tanti training in montagna vanegas è morto nel 2001 a 79 anni e quando ha ispirato fidel castro ha scritto una lettera alla famiglia che diceva ho saputo con grande tristezza della morte di arsasio vanegas e volevo inviarvi i miei più sinceri sentimenti di condoglianze le mie più sincere condoglianze vanegas è stato un leale collaboratore della rivoluzione cubana che in messico ha superato molte difficoltà per preparare lo stage che poi ci ha condotto a liberare la nostra nazione vanegas ha dato ci ha dato veri valuable services quindi è stato un uomo molto prezioso con i suoi servigi e lo ha fatto nel più totale disinteresse identificandosi con la nostra causa e aiutandoci durante i lunghi mesi della preparazione della grandma expedition la grandma era un'imbarcazione utilizzata proprio per trasportare dal messico a cuba i rivoluzionari che poi presero possesso dell'isola da qui il nome grandma expedition dal nome della imbarcazione che trasportò le truppe quindi arsasio ha guadagnato la nostra perenne gratitudine ed è ricordato come un cubano lo abbiamo sempre considerato uno di noi come se fosse un nostro figlio e uno dei nostri combattenti quindi vi prego di ricevere la testimonianza della mia tristezza e del mio grande apprezzamento quindi pensate un po' pensate un po' il wrestling a volte uno non ci crede e invece ha avuto addirittura a che fare con la rivoluzione cubana grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti